Il mio ruolo da Masterchef All-Star a Masterchef normale non cambia, sono sempre monobarrieri e su All-Star sono leggerli e un pochino più severo perché chiaramente i concorrenti sono sempre quelli, sono migliorati e quindi io ho cercato di spingere un pochino di più, sono andato più duro. Il mio piatto invenale preferito sono i tortellini che muoiono nel brode, ancora con queste tortelline, il mio piatto invene è che cosa c'è? Come è stato rivedere i vecchi concorrenti di Masterchef? Beh sicuramente è una cosa bella, una cosa bella e poi questi ragazzi che stanno facendo il percorso in cucina ci siamo divertiti di più perché il livello si è alzato moltissimo. Come è cambiato il tuo ruolo da Masterchef a Masterchef All-Star? Beh sicuramente è più critico o molto più critico perché alla fine se loro alzano la sticella la dobbiamo alzare pure noi, dobbiamo andare a cercare più il filo nell'uomo. Cosa ti aspetti da questa nuova edizione di Masterchef? Beh sicuramente che vada bene e che la gente a casa si diverta perché la cosa principale è che il cliente si diverte. E che cosa dobbiamo dire? Strono. Tanti auguri. Tanti auguri. Tanti auguri. Ok dai vai. Tanti auguri. A tutti i clienti Sky. 2019. 2019. 2019 lettre. 2019 Gio.